Ciao 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 Un saluto dalla gelateria Ciao Ciao Un saluto dalla Sport Market Tornate a trovarci Ciao 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 Un saluto Ciao tutti Ciao Ciao Un saluto a tutti Dallo Staff Market E ci vediamo l'anno prossimo Ciao 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 a tutti Fate un buon rientro Mi auguro che abbiate passato la splendida vacanza E soprattutto mi auguro che potete rivedere l'anno prossimo Un saluto a tutti dalla Fabrica del Sapore Ehi Un attimo aspettate ma Manchiamo solo noi dell'animazione Vabbè Ho capito Facciamo che noi i saluti ve li facciamo direttamente di persona Ci vediamo Ci spermati Siff坐 La terapia Questa la terapia Si Si Con